Miss Italia Miss Italia, Christian De Sica al posto di Gabriel Garco, lo scoop Christian De Sica presidente di giuria di Miss Italia, amaro in bocca per Gabriel Garco. Il settimanale tv Sorrisi e canzoni nera certo, sarebbe stato Gabriel Garco a ricoprire il ruolo di presidente di giuria di Miss Italia 2017. Il giornale di informazione tv aveva infatti scritto che l'attore dell'onore e il rispetto era stato assoldato dal programma di bellezza di La Sette, e che presto quindi sarebbe ritornato sul piccolo schermo. Peccato che fosse tutta una notizia falsa, a rompere il silenzio è stato un suo collega, il famoso attore di cine Panettoni Christian De Sica. L'attore infatti, poco prima di ritirare il premio Elliot Diamond e il premio internazionale Maratea 2017 sul palco delle giornate del cinema lucano, ha rivelato al sito blog questo sconvolgente scoop, ci sarà lui al posto di Garco. Inoltre, De Sica potrebbe ritornare anche su Rai 1, con la trasmissione di intrattenimento tale quale show, l'attore ha svelato infatti che gli è già arrivata la proposta di tornare a ricoprire il ruolo di giurato, ma attualmente è indeciso se accettare o meno. . Gabriele Garco a casa, il presidente di giuria di Miss Italia 2017 e Christian De Sica. . Certissima è invece la sua partecipazione a Miss Italia. Christian De Sica sarà quindi il presidente della giuria della trasmissione di La Sette, ruolo che fino a poche ore fa sembrava destinato all'attore di fiction Gabriele Garco. . A lanciare la bomba era stato il settimanale TV Sorrisi e Canzoni, il quale in un lungo articolo aveva dichiarato che Garco sarebbe ritornato in TV proprio grazie a Miss Italia 2017. . Oggi invece, Christian De Sica ha cambiato le carte in tavola, ha forse soffiato il posto al collega? De Sica potrebbe anche fare il suo ritorno su Rai 1 al fianco di Carlo Conti con il tale quale show, il conduttore lo vorrebbe infatti anche per la nuova edizione, ma Christian non si è ancora deciso se prendervi parte o meno. . 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